Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video vlog oggi sono qua per farvi vedere la mia night routine versione invernale natalizia perché ho fatto la morning routine poco tempo fa che ve la lascio lei e quindi sono tornata per la night routine e niente, se questo video vi piacerà come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e se vi mandatemi a seguire i suoi miei social che trovate sempre linkati nell'info box e direi di cominciare subito, sono le 3.20 in realtà ho finito il pranzo e vi porterò con me in questo pomeriggio barra sera come potete vedere mi sono subito messo i pantaloni della tuta quando sono tornata a casa e oggi ho i capelli un po' mossi ma ho finito purtroppo la mia adorata lacca della L'Oreal che funziona benissimo quindi stanno già un po' scendendo per ricomprarla e... oddio c'è ancora il bicchiere della colazione, ora lo porto da là e ho portato già la cartella qua in camera in realtà non ho tantissimo questa settimana, ho solamente matematica e chimica però inizio a dare un'occhiata al tutto magari ora dopo pranzo di fatti pensavo di fare i compiti dopo pranzo e quindi togliermeli in modo che poi dopo sia libera per fare altro e... eccetera fatemi sapere voi come siete messi con la scuola e se avete già decorato anche voi la casa per Natale, ma presumo di sì devo fare una videochiamata con la mia amica per matematica, per studiare matematica assieme un attimino e poi dopo ci riaggiorneremo vuoi salutare YouTube? ciao! bella si è finita la videochiamata con la mia amica e niente ora studio chimica, devo iniziare a studiare chimica faccio tutto l'occorrente, vi faccio vedere libro, schemi, no così qua in realtà è matematica ops, i slide, quindi niente farò un attimino questo, questa è l'ora portarci un po' di allegria accendo le luci del fatto che sta diventando buio perché il sole è già tramontato là dietro la montagna vado a fare pausa merenda perché sono stufa di fare i compiti ho fatto tipo un'oretta e mezza così di chimica, quindi ho il cervello fuso però sto capendo grazie ai video su YouTube vi giuro, i video su YouTube mi salverono la vita non potete capire, in qualsiasi materia i video su YouTube mi salverono la vita io senza YouTube, boh, non so come farei ora vado a mangiare no no no, è qua a casa, sto studiando è da là, in camera dopo averci impiegato tre ore per aprire uno yogurt appunto io mangio questi qua a page, solitamente a merenda perché li adoro ho messo questa crema spalmabile a cioccolato di Brozis e vi ho parlato di questo brand sia nell'unboxing che già nella morning routine vi lascio nella i e io lo adoro troppo trovate sempre il link nell'info box con il codice sconto da poter utilizzare e poi ho aggiunto della frutta secca no scherzavo, i biscotti ho optato per i biscotti stavolta e niente, anche questi cioccoli sono spedite, ve la moglie a bianco poi ovviamente come poteva mancare il tè solitamente faccio il tè verde però questa volta ho cambiato un pochetto ho fatto quello normale ok allora ho fatto merenda ora il tè me lo porto da là mentre studio e videochiamo cioè finisco di studiare chimica poi videochiamo un'altra mia amica che così studiamo assieme allora sono le 7.10 ho appena finito la videochiamata per matematica in realtà poi abbiamo parlato un po' ma nulla e ho preparato la cartella qua per domani quindi questa cosa l'ho già fatta ora metto il pigiama e poi vado a fare la skin care e vi voglio far vedere una cosina che mi hanno regalato e quindi sì, ve la faccio vedere ora però prima metto il pigiama perché vi giuro che sono scomoda il pigiamino e poi ritiro un attimo queste cose che ho sul letto allora la skin care che faccio è sempre la solita di Iepoda che già vi ho fatto vedere e vi lascio nella I e questo qua è la cosa che volevo farvi vedere in pratica questo frighetto per la skin care è super carino dentro ho messo appunto alcuni prodotti di Iepoda e altre creme e qualche maschera eccetera ed è super super bello e qua ho ottenuto tipo quelli che uso di più e lì dentro quelli in realtà che uso un po' di meno perché magari sono maschere eccetera che quindi si conservano meglio dentro il frighetto e niente vado a fare la skin care allora per chi non avesse visto il video della skin care vi faccio comunque rivedere i prodotti perché vi sono arrivato una seconda volta siccome appunto li ho quasi terminati e come vedete il pack è super super carino e qua c'è la spiegazione con tutti quanti gli step da fare in totale sono 5 come già avevo detto e ovviamente sono tutti quanti prodotti vegani, naturali e appunto qua i diversi loghi e anche il pack ovviamente in cartone per farsi è in vetro infatti tutte le confezioni sono in vetro per non andare a mangiare l'ambiente diciamo per essere più eco friendly e niente quindi andrò a mettere questi prodotti in bagno perché gli altri sono quasi finiti ovviamente se proverete questi prodotti fatemelo sapere vi lascio il codice sconto qua e che valido sul tutto sito per un 30% di sconto quindi abbastanza comunque e vi lascio il link di questa box nell'info box appunto e fatemi sapere se li proverete io vi duro che amo questa skin care mi sta salvando la vita poi vabbè prima di passare quei prodottini là uso questo qua di Kiehl's che ho già ricomprato una volta ed è buonissimo mi piace un sacco e c'è anche la cremina abbinata che ho provato una volta molto leggera, carina anche quella ok allora mi sono struccata la crema la metto poi dopo cena perché mi devo lavare i denti altrimenti va tutta quanta via e ho acceso i led in camera vi faccio dire ho acceso appunto tutti quanti i led e l'alberellino quindi stra carino cucu guardate come brilla col flash mi piace un botto e anche qua e ora praticamente devo andare a editare questo video che sto girando quindi questo è quello che farò e poi magari dopo cena guardo qualche vlog ma tra l'altro stavo riflettendo sul fatto che da un botto che non uso le calzine morbidose tipo Piedler allora raga stavo editando e mi sono accorta di non aver concluso la night routine comunque in realtà ho mangiato cena poi ho guardato un film come praticamente tutte le sere e niente quindi questo tra l'altro per la mia voce mi sono super raffreddata infatti mi brucio tutto qua sotto e vabbè spero comunque il video vi sia piaciuto vi abbiate in compagnia e noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video vi voglio bene ciao